Sviluppo economico ed occupazione. Tanti giovani e non solo giovani che si vedono costretti a lasciare la Puglia per tentare fortuna altrove. È davvero una priorità per il territorio che i candidati al Consiglio regionale, ove mai eletti, dovranno affrontare. Ne parliamo con Antonio Scalera, candidato al Consiglio della regione Puglia, con la lista Puglia domani, fitto presidente. È naturale che una regione, un territorio, una provincia si impoverisce quando i giovani vanno via. Noi innanzitutto dobbiamo creare quelle occasioni occupazionali sul nostro territorio affinché questo non avvenga. E perché tutto questo non avvenga, affinché tutto questo non avvenga, noi dobbiamo creare sviluppo economico in tutti i comparti. Perché l'occupazione esiste se dai gli incentivi ai giovani per poter rimanere sul nostro territorio, se hai lo sviluppo economico in tutti i settori che il territorio offre. Troppo poco è stato fatto, molte volte è stato trascurato da chi oggi ha governato questa regione. E per poter far rimanere i giovani sul nostro territorio, noi dobbiamo sviluppare tutti i settori che vanno dal turismo al comparto agricolo, alla pubblica amministrazione, all'industria, alla piccola e media impresa. Settori che oggi sono allo sbando.